ciao a tutti orchetti sono orcuverde benvenuti al primo video di questa nuova serie sul canale dove farò vedere tutte le donazioni che ho ricevuto durante le live nella super chat e non solo anche sul sito streamlabs delle donazioni che trovate sempre i link in descrizione e nello stesso tempo leggerò il messaggio che avete scritto quando avete donato in questo video vi mostrerò tutte le donazioni che ho ricevuto nel mese di gennaio la prima donazione è stata il 4 gennaio da segnale disturbato che mi ha donato un euro grazie poi c'è carlo 00 che sempre il 4 gennaio mi ha donato un euro grazie carlo poi sempre il 4 gennaio dgt mi ha donato un euro grazie mille poi sempre il 4 gennaio è arrivato menestresser che mi ha donato 10 euro essendo che però non ne me ne ero accorto in quanto stavo giocando in partita su fortnite appena ho visto la chat che era praticamente esplosa ho visto sopra in alto la chat che c'era una donazione con l'immagine del canale di menestresser io ho chiesto se veramente fosse lui menestresser vero menestresser poi subito dopo mi ha risposto sì sono io donandomi altri 20 euro quindi grazie mille menestresser poi il 5 gennaio un'altra donazione di carlo un euro grazie mille il 13 gennaio quando avevo fatto la live con fanatic dende mi dona 2 euro scrivendo un saluto per fanatic e da parte mia e poco dopo un'altra donazione di 2 euro con scritto orcus da anche andrea famo una partita squadre grazie mille dende per queste due donazioni poi il 22 gennaio mi dona 2 euro geocomics con scritto sei grande e poco dopo un'altra donazione di 2 euro con scritto potrei essere moderatore please infatti poi ti avevo messo mi ricordo moderatore in quella live grazie molte geocomics poi il 27 gennaio giacomo voccia mi dona 1 euro grazie giacomo poi sempre il 27 gennaio mi dona 1 euro matteo killer 91 grazie matteo poi il 31 gennaio mi dona 1 euro ricchi zeffi grazie ricchi e sempre il 31 gennaio mi dona 1 euro anche david tm running gun grazie mille david io leggo i nomi dei vostri canali quando vi ringrazio quando vi saluto quindi se vi chiamate in un'altra maniera sti cazzi raga ma non è finita qui perché l'ultima donazione ha vinto tutto questa donazione raga me l'ha fatta un hater pensate un po' un hater che mi ha donato un euro sul sito streamlabs che trovate sempre il link in descrizione con scritto coglione mo ti butto giù il canale l'euro usalo per rifarti un canale nonostante questo messaggio ti ringrazio comunque per la donazione però non credo proprio di utilizzare questo euro per rifarmi un altro canale in quanto questo canale non è andato giù fortunatamente il mio canale è ancora sano e salvo perciò continuerò a caricare ancora video su questo canale ragazzi se volete essere presenti anche voi in questi video di questa serie basta donare anche il minimo non per forza cifre elevate potete donare tramite la super chat quando sono in live oppure quando volete oppure sul sito streamlabs delle donazioni che trovate sempre il link in descrizione sotto ogni video e live quindi niente ragazzi ringrazio ancora tutti quanti coloro che mi hanno donato in questo mese grazie mille a tutti seguitemi su instagram sulla pagina facebook trovate tutti i link in descrizione io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video e da Orkuved è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella